Ma quando cazzo non fanno che non vengono fatti? Questo è già un filmato professionale, già ora in primo piano cà Questo che è importante che sono a te bene lo tieni dai miei archivi Guarda di fare pure un grande che si veda Madonna ma sono un arsenale queste cose sono Allora che ti hanno una richiesta ti hanno un bel beneficio in banca da me Pure un pulmone è uno che chiese E' un ruolo un pochino Ma ormai la gente c'era già più grande c'erano tutti li vedevano E poi ve lo cazzo No, prima volta di qui